Se quello che dice Grillo sono quello che abbiamo ascoltato questa sera, non ci preoccupa più di tanto. Io l'invito che faccia Grillo è di andare a Parma, dove in campagna elettorale avevano promesso no all'inceneritore. Dopo neanche 15 giorni sono andato ad inaugurarlo col sindaco dei 5 Stelle. Di conseguenza, prima, come ho detto prima, prima di parlare si informi, perché poi parlare bene e razzolare male non va bene, caro Beppe Grillo, non va bene.